Un'operazione congiunta antidroga è stata portata a termine a tramazza dai carabinieri del comando provinciale di Oristano e dagli agenti della squadra mobile della questura del capologo arborense. In un capannone situato in un'azienda agricola, i carabinieri e gli agenti hanno trovato, contenuti all'interno di 70 sacchi di mangime, 550 kg di marijuana essiccata e pronta per essere venduta. Lo stupefacente, se messo sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato oltre 2 milioni e mezzo di euro. In manette, con l'accusa di detenzione e spaccio di droga, è finito un agricoltore di 25 anni di tramazza. L'operazione di carabinieri e polizia è scattata due giorni fa. Nel corso dei controlli disposti dalla procura della Repubblica di Oristano, l'agricoltore ha fornito ai carabinieri e alla polizia la documentazione relativa alla marijuana presente in azienda. Ma dalle analisi dello stupefacente effettuate dal Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Cagliari, è emerso che la marijuana aveva un principio attivo elevatissimo, in media del 15% di THC. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato rinchiuso nel carcere di massa, ma è messo a disposizione dall'autorità giudiziaria.